Dopo alcuni mesi di silenzio torna ad intervenire l'ex sindaco Angelo Balsamo e lo fa con una nota sulla Costituzione della Società per la Gestione dei Rifiuti, tema su cui il Consiglio Comunale sarà chiamato a breve a pronunciarsi. La proposta che l'amministrazione Cambiano ha approvato con delibera di giunta e che sottoporrà l'approvazione del Consiglio Comunale, scrive Angelo Balsamo, ha stravolto quella che era l'idea di gestione in house condivisa all'unanimità dal Consiglio Comunale nel 2013. L'idea inizialmente condivisa da tutto il Consiglio era quella della riduzione dei costi di gestione, preferendo la gestione in house rispetto all'esternalizzazione del servizio per non caricare sui nostri concittadini il profitto di impresa che andava riconosciuto con l'esternalizzazione. L'idea, continua l'ex sindaco, era quella di non creare una società per distribuire cariche sociali con i costi aggiuntivi che ne conseguirebbero. Amministratore unico della società doveva essere l'assessore in carica, costi aggiuntivi zero. Per il collegio dei revisori dei conti si doveva estendere il mandato a quelli già nominati per il Comune, costi aggiuntivi zero. L'assemblea, si legge ancora nel documento, doveva essere costituita a titolo gratuito in modo trasparente e democratico dal sindaco e dall'Aggiunta, dal presidente del Consiglio e da due consiglieri in rappresentanza del Consiglio Comunale, da un componente delle categorie produttive, da un rappresentante sindacale dei lavoratori dipendenti delle società, da un rappresentante delle associazioni. Invece la proposta che sarà discussa in Consiglio Comunale prevede tutto l'opposto, crea nuovi costi a carico dei cittadini. Amministratore unico Consiglio d'Amministrazione a pagamento, revisore unico Collegio Sindacale a pagamento. Quindi l'invito dell'ex sindaco rivolto ai consiglieri comunali a votare contro la proposta che l'amministrazione Cambiano presenterà in Consiglio, così come attualmente formulata. L'idea che era stata esposta ai nostri concittadini, scrive Balsamo, prevedeva una gestione trasparente e virtuosa ed economicamente vantaggiosa. L'amministrazione Cambiano non ha realizzato nulla di quanto andava fatto per rispettare l'impegno assunto con gli elettori. Nella parte finale del suo documento, Angelo Balsamo evidenzia ancora come non appena insediata, otto mesi fa, l'amministrazione Cambiano avrebbe dovuto uscire dalla Dedalo, per come già fatto dai comuni di Canicattia e Ravanusa, esternalizzare il servizio sotto il controllo diretto del prefetto, ad una delle ditte inserite nella lista bianca esistente in prefettura per la durata di 6 o 9 mesi, nel periodo di 6-9 mesi organizzare la gestione in house, logistica, mezzi, personale, finalizzata alla differenziata su tutto il territorio comunale, investire il risparmio d'esercizio nell'acquisto dell'intero autoparco mezzi, rigorosamente nuovi per la gestione in house del servizio, mezzi da comprare rigorosamente nuovi per azzerare i costi di manutenzione, realizzare in contrada piano bugiades e zona industriale un nuovo deposito per gli automezzi, introdurre il sistema del deposito del vuoto per ogni bottiglia comprata, un deposito di 10-20 centesimi che andrebbero restituiti da apposite macchinette al momento della riconsegna. La mia amara riflessione, conclude Angelo Balsamo, è che il sindaco probabilmente ha sottoscritto un programma elettorale che già sapeva di non voler rispettare, ignorando le persone che hanno ideato e voluto tale programma politico-amministrativo che è stato condiviso e votato da 8.500 nostri concittadini.